Un sole bellissimo, quindi con un sole bellissimo mi viene voglia di cantare una melodia estremamente solare, quindi... Non è così, non è così, non è così, non è così. Poi sotto c'è invece un palazzo che è proprio di quei lì imponenti, tutti in cemento, che ispirano qualcosa invece di potente ma tristissimo. Ma te! 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 Anche oggi devo andare a lavorare, anche se il cielo è un caracobigio. Non sopporto quello che devo fare. Perchè? Perchè il regno con le peli puli meale.